Sull'altra premessa non è una cosa che le destinazioni eseguo io proprio da vicino, però diciamo che sicuramente sarà affidata a una o più delle associazioni che operano nel tema del sociale, abbiamo l'Avis che da parecchio tempo reclama i locali per svolgere la loro importantissima attività, poi ce ne sono tante altre che stanno operando, sicuramente la scelta ha ricadrato una di queste, questo tipo di associazioni, questo tipo di volontariato è tutto utile, da quello singolo a quello più o meno organizzato, come vediamo in questi giorni, fare classifica di merito è veramente non solo poco gradevole, poco utile, veramente senza senso, però poi una scelta andrà fatta e quindi si valuterà una serie di cose.